Un marocchino di 41 anni, irregolare sul territorio, dovrà lasciare l'Italia. L'uomo si era introdotto senza autorizzazione all'interno di una proprietà privata in disuso. Il magrebino aveva occupato abusivamente l'edificio e ci aveva realizzato un gesciglio di fortuna con coperte e indumenti. Il tutto è avvenuto a Perugia, in via della Ferrovia, tra via Canali e via Campodimarte. A segnalare la sua presenza e il suo andirivieni sono stati alcuni cittadini. Il nucleo del coro urbano Funtiveggia e della polizia locale di Perugia, al seguito del capitano Rosella Giusepponi, insieme a due volanti della questura, sono entrati all'interno dell'area segnalata. Gli agenti, accedendo da un cancello con chiavi messe a disposizione dal proprietario residente fuori dal comune di Perugia, hanno fatto la scoperta del soggetto. L'uomo, oltre a essere gravato da numerosi precedenti penali per droga e contro il patrimonio, è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Perugia lo scorso febbraio. Lo straniero è stato denunciato per invasione di terreni e edifici altrui senza autorizzazione e, come detto, dovrà lasciare l'Italia.